Tragedia sulle strade, morto praticamente sul colpo Beniamino Canaglia, 75enne di Breganze, coinvolto ieri sera in un incidente stradale lungo la nuova Gasparona. L'anziano si trovava al volante della sua Honda Jazz quando, giunto all'intersezione tra via Bragetti e via Olmo, a poca distanza dalla sua abitazione, si stava immettendo nella superstrada. Forse una svista, il pensionato non si è accorto che proprio in quel momento stava sopraggiungendo un camion della scanagata combustibili di Marostica, condotto da un 66enne di Molvena. Il conducente del mezzo pesante che proveniva da Tiene non è riuscito a evitare l'impatto, ha centrato in pieno l'onda, uno scontro violentissimo. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del SUEM, viste le gravi condizioni dell'anziano, è stato allertato anche l'elisoccorso, ma per Canaglia non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e la stradale di Bassano, il flusso veicolare lungo la trafficatissima strada è stato rallentato per diverso tempo.